è già entrato bagno vi hanno sparato l'eco ok ci sono una attraverso il muro no c'è gente di bagno ci sono bagno hanno fatto la fatto la montagna fatto un altro raga mi stanno accusando di wallluck 3kg attraverso wallbang 3kg attraverso wallbang è una di one tap ma che c'è non è sotto ma che c'è un po' di non lo sapevo scusa zitto zitto sperimento 1 la roba tocchi no mi ha rubato l'ice no si ho fatto 4 chi di questo round e un altro riferimento nel frost ma me l'ha rubata no non l'ho fatto